Questo video riguarda i migliori 3 gadget utili per la moto Il vincitore della qualità è il Black & Decker A7063 Chiavi a bussola e adattatore Black & Decker Inserti per forare e avvitare per il faidate Black & Decker Resistenti punte per muratura Black & Decker, utilizzabili con gli elettroutensili di tutte le marche Dalle punte per forare qualsiasi tipo di materiale, agli inserti per avvitare ogni tipo di viti ai set di chiavi a bussola per i bulloni A prescindere che tu sia un appassionato di bricolaggio o che lavori in un'autoficina, troverai il set Black & Decker ideale per soddisfare le tue esigenze Inserti per avvitare di alta qualità Black & Decker disponibili nei formati più comuni, progettati per assemblare mobili e per altri lavoretti di bricolaggio domestico Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video L'alternativa è il RIP bloccadisco Il bloccadisco Moto RIP è un must per l'antifurto di moto e biciclette indoor e outdoor È dotato di un sensore sensibile incorporato, una volta rilevata una vibrazione o un movimento Emetterà un allarme continuo di 110 dB per fermare eventuali ladri che cercano di spostare i veicoli o forzare la lucchetto Questo antifurto Moto è dotato del nostro cilindro della lucchetto in lega di alluminio sviluppato autonomamente e della chiave in rame Che rende lo sblocco molto più agevole rispetto alla comune chiave a foro tondo di altre marche Questo bloccadisco con allarme può essere bloccato semplicemente premendo verso il basso Dopo 3 secondi si sentirà un segnale acustico GD, il che significa che entra in modalità allarme Il lucchetto Moto con allarme è adatto a tutti i tipi di veicoli dotati di pastiglie per freni a disco È possibile utilizzare la maggior parte delle moto, biciclette Il vincitore del premio è l'amico il telefono biciletta Monta il telefono sul supporto per bicicletta con una mano, poi ritira la mano e il telefono verrà bloccato automaticamente Il design unico di questo supporto aderisce saldamente al telefono anche su strade irregolari, impedendone la caduta durante la guida Il supporto per telefono per bicicletta l'amicole è facile da installare senza alcun attrezzo Questo supporto per bicicletta è adatto per manubri di 15-30 mm di diametro Il supporto universale per bicicletta è compatibile con dispositivi GPS da 4,7 a 6,8 pollici La superficie di contatto in silicone protegge il telefono da graffi Inoltre può ridurre le vibrazioni per fare in modo che tu possa godere appieno del tuo viaggio Gira il pulsante sul retro per bloccare il telefono in posizione Il meccanismo di bloccaggio dà tranquillità sui terreni irregolari Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento